Anche Torino sarà tra le 11 città italiane che dal 15 ottobre ospiteranno la quarta giornata nazionale dello sport paralimpico, in programma nell'area del Parco Ruffini, presso il Palazzetto dello Sport e l'area circostante. La manifestazione organizzata dal Comitato Italiano Paralimpico e da Enel Cuore, la ONLUS di Enel che si occupa delle iniziative sociali, intende avvicinare i ragazzi delle scuole alle discipline dello sport per disabili, praticando direttamente insieme ai campioni paralimpici come Giovanni Peglielo, Argento nel tiro a volo ad Atene 2004 e Pechino 2008, diverse attività. Una giornata che conferma come lo sport possa essere portatore di valori, quale l'inclusione e l'integrazione. Presentiamo oggi la quarta giornata nazionale dello sport paralimpico, un evento che, come dice il titolo, è il suo quarto anno di fila, molto importante, perché coinvolgiamo tutti gli anni un numero crescente di ragazzi delle scuole di tutto il Piemonte. Quindi saremo circa 5.000 quest'anno e grazie a questo è possibile portare avanti il messaggio che da Torino 2006 non ha mai smesso di parlare di questo sport straordinario, dei nostri atleti straordinari. La giornata nazionale dello sport paralimpico, Tutte le società del Piemonte e del CIP saranno presenti, numerosissimi atleti un po' da tutta Italia e poi anche il saluto alle squadre di curling e di hockey in partenza per Vancouver il prossimo marzo per le Paralimpiadi.